a bambino erogina a sinistra erogina e voglio sbagliare tutto e io sai cosa faccio quando sbagli così che faceste non devi farci guida ah si mi sa che andiamo però nella direzione del galeone ti va di andare a guardare sull'albero mi sa che quella è proprio l'isoletta a chi abbiamo a sinistra c'è il galeone marco porca vacca dove sta a a nord a poppa prua a bordo a a poppa quindi non è a poppa prua e stanno anche mi sa che stanno partendo quindi io farei 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 una cosa di questo tipo cerchiamo di non farci vedere ma che ce ne frega andiamo a combattere eh no ci fanno ci fanno ci fanno erbujo vai prendiamo il vento com'è la situation col galeone wow che vaneggio c'è un bel mare grosso eh dove siamo ok dai siamo quasi arrivati boh siamo tranquilli dai e peppino mi crashò allora io me la ballo me la ballo me la ballo bravo 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 non mi rispondere dai bravo bravo ma complimenti complimentoni complimentoni eh voglio dire bravo bravo no bravo vabbè dai ho capito me la faccio da solo bene siamo rimasti da soli ah caspita però sono anche un po' secco di munizie ouch c'è un po' secco di munizie Grazie a tutti. Ahia. E' il capitano. L'ho disarmato. E morì. E' stato anche abbastanza easy, dai. Prima di tutto, la situazione. Secondo di tutto... Ok, sembra tutto tranquillo.